carabinieri roma si signora però perché sta chiamando 112 mi dica di che cosa ha bisogno autoradio 14 dalla 580 montesagro barioli 14 fai attenzione massimo già segnalati due soggetti sospetti uno dei quali indossa un di lana di colore nero massima coltura le faccio avvicinare la giro 4 grazie grazie